Donare un rene è possibile anche da vivide, è un atto di generosità che regala vita e speranza. In alcuni paesi come gli Stati Uniti, il Giappone, il Nord Europa, la cultura della donazione è ben radicata e la percentuale di trapianto da donatore vivente ha superato quella da donatore deceduto. In Italia non c'è ancora molta informazione sull'argomento e le cifre si attestano sul 10-20% e anche per questo è stato organizzato un congresso al Palazzo Hotel di Varese sotto la supervisione scientifica di Andrea Ambrosini, nefrologo all'ospedale di Circolo che opera trapianti da più di 20 anni. L'incontro di oggi è un incontro dedicato al tema del trapianto di rene e della donazione perché è un argomento estremamente interessante e importante che tutta la popolazione sia al corrente e che questa cultura della donazione e dell'attività di trapianto venga diffusa sempre più. per poter avvicinare se non a eguagliare i risultati e i lavori che ci sono negli altri paesi europei e negli altri paesi oltreoceano dove questa attività è molto più sviluppata rispetto a quella che abbiamo in Italia. Comunque in Italia abbiamo delle eccellenze, sicuramente i livelli, le capacità dei professionisti che si occupano di questa attività sono molto valide e sicuramente abbiamo dei risultati che sono paragonabili a quelli di questi paesi dove l'attività è molto più sviluppata ed è partita anche magari molto prima. Il programma di trapianto più diffuso, più vecchio e più conosciuto da tutti è sicuramente il trapianto dal donatore in morte cerebrale riguarda donatori che sono per un evento ischemico traumatico a livello cerebrale sono ricoverati in un reparto di reanimazione e non hanno più un'attività cerebrale spontanea per cui sono a tutti gli effetti dei pazienti deceduti che sono mantenuti in vita solo grazie esclusivamente a una macchina che permette la respirazione e la circolazione del sangue. Questo è il donatore classico, il donatore più conosciuto da tutti. Differenti sono i donatori in morte cardiocircolatoria che sono pazienti che hanno subito un arresto cardiocircolatorio e vengono sottoposti a manovre di rianimazione immediatamente, quindi il momento dell'arresto cardiocircolatorio è conosciuto si parte subito con delle manovre cardiocircolatorie, questo per garantire la circolazione del sangue se queste manovre cardiocircolatorie non portano a un recupero della vita a tutti gli effetti questi pazienti possono essere candidabili ad essere dei donatori d'organo differenti da quelli di cui abbiamo parlato prima perché in questo caso la morte cardiocircolatoria è istantanea e viene garantito la circolazione del sangue solo grazie alle manovre di rianimazione che si possono fare sia sul territorio, per strada, quando c'è un incidente quando c'è un evento ischemico, che anche e soprattutto all'interno di una struttura ospedaliera che possa essere il pronto soccorso o un reparto di degenza. Il programma invece, quello che diciamo che dà risultati migliori in termini generali sia sul breve che sulla lunga distanza soprattutto, è quello del programma da donatore vivente in questo caso, ripeto che è un'attività molto limitata in Italia purtroppo rispetto ad altri paesi il donatore è una persona viva, in perfette condizioni di salute quasi sempre è un consanguineo del paziente che deve ricevere l'organo può essere anche solo sentimentalmente affine, quindi essere un coniuge, un convivente o anche una persona che ha uno stretto rapporto di amicizia col paziente a volte ci sono anche dei donatori non sentimentalmente affini è una pratica che si sta un pochino prendendo piede in Italia ma che è molto molto diffusa in paesi come gli Stati Uniti il donatore cosiddetto donatore samaritano, cioè un paziente che per libera scelta decide di donare alla comunità un proprio organo che quindi non saprà assolutamente a chi verrà donato, a chi verrà designato però è soltanto un gesto di amore, un gesto di grande senso civico in America, ripeto, questa è una pratica abbastanza diffusa in Italia abbiamo avuto alcuni casi e questo permette anche a volte di innescare delle catene di trapianti quando non c'è una compatibilità tra un donatore e il proprio ricevente a volte si creano delle catene e con una specie di meccanismo di domino si scambiano gli organi tra donatori e riceventi finché tutti quanti i riceventi possono ottenere un organo compatibile con la loro vita Grazie a tutti